e io sono simone di simon and simon facciamo una gara veloce questo è il terzo video che giro perché continua a non salvare i file maledetto siamo in russia ma avete detto che porto sfiga quindi faccio uscire il video dopo la gara non mi spoilerate come va a finire perché io la vedrò in differenza lunedì in differenza quindi siamo in russia nella fantastica soci credo nella formula 1 tutto può succedere prima di partire diamo l'occhiata la griglia e siccome ho registrato sempre sulla disc sulle ssd e mi si bruciano i file stavolta registro sullo stesso disc su cui è il gioco andiamo un po più a scatti ma spero che non si perde i pezzi ho mandato avanti il veloce 1 e mezzo peo e così si viene meglio massa ci è aperto veramente indietro a sto giro vabbè facciamo qualche sorpasso ho tirato niente tutti mamma mia ma si ma chissene ho superato 18 persone non fare nanna andando agli addosso mi sarebbe piaciuto farlo in live questo video ma purtroppo non sono qua adesso che vedete il video sono a casa mia non è che purtroppo sono a casa mia purtroppo non ho il dono dell'obiquità e non posso fare il video ovviamente sono contento di essere a casa mia non è che prendiamo anche Hamilton da sto giro facciamo le colme un pochino più aggressive tac c'è questa leggera lag che è più interessante la gara attenzione come ho finito il primo con 4 secondi e mezzo di vantaggio su 13 giri di gara mi prendiamo un secondo a giro mi sa che devo mettere una chiavetta e registrare sulla chiavetta veramente lagosissimo mi ha toccato qualcuno si è toccata da solo la macchina ah ne ho andato vicino ma sono uscito male qua due secondi non è capire come si usa la mobile che mi sa che al penultimo giro me la fa usare e vabbè ci prendiamo il risultato che ottengo beh adesso non è che posso rimontare mai più di mucco c'è tutti dietro c'è il trenino che si è formato intanto Hamilton è scappato o si schianta per sbaglio suo o è fuggito proprio penso c'erano due che mi vogliono superare uno è Rosberg e l'altro chissà chi è vai con lei direi è già arrivato dai 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 se lo copriamo un po' come c'è che si abilita il dios sta andando lanciatissimo si fa e però il sorpasso no, ci vuole ancora tantissimo taglia la curva attenzione stegge tantissimo qua secondo me ho guadagnato anche un sceno così lo avevo ritardato talmente tanto lo vedo lo vedo vai che si avvicina tutta la gara da prima è noiosissima invece così almeno ci vuole da superare vuoi che fosse il tifo dai simone che ce la fai le ultime curve l'unito anche se si alline ci vuole il fine a mano possiamo tagliare tantissimo non so lo so è l'ultimo però nooo ma come che stile è un pazzo assassino ha tagliato le curve schippa il video non voglio venire il video e infatti esultano gli altri non esulta il nostro amico satana vengono sul podio dopo un'ottima gara sono stati fantastici come se veniamo a se Vettel viene posseduto dal demonio la Mercedes oggi si porta a casa la vittoria no sembra tranquillo dai non è sul pazzo micidandante eccolo il mio ti uccidevole il sonno ma hanno già andato i piloti no non hanno già andato e ora vediamo come questi risultati si riflessano ma è un iceberg infatti non so perché mi sembra la botta sono un peor e ho inciterollito ecco bene ragazzi grazie per averci seguito e alla prossima ciao chi e ci ha regalato una prestazione fenomenale è un io e un ianto è tutto per il gran premio di oggi un saluto da parte mia e di Luca Filippi e arrivederci alla prossima gara